Risalgono i positivi in Calabria e aumentano anche i morti, 5 in più che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 456. In crescita anche i ricoverati, più 5, mentre calano le terapie intensive, meno 4. A fare lievitare i casi e l'esplorare è registrato in due località della provincia di Vibo Valencia, Piscopio e Fabrizia, rimaste in zona rossa. A seguito dell'ordinanza firmata dal presidente facente funzioni della regione Calabria, Nino Spirli, a spingere l'adozione di misure più stringenti valide da oggi fino al 6 gennaio 2021, è stata la comunicazione pervenuta dall'azienda sanitaria provinciale Vibonese, secondo cui nelle due località si registrano focolai epidemici che destano particolare attenzione, una situazione tale da doversi ritenere utili i provvedimenti restrittivi nei rispettivi territori. Un altro focolaio potrebbe svilupparsi a Lungro, in provincia di Cosenza, dove a sede l'eparchia di rito bizantino, nel comune dove a sede la diocesi di Greco Ortodossi, è stata chiusa la cattedrale di San Nicola di Mira, dove uno dei sacerdoti è risultato positivo. Il sacerdote aveva celebrato messa durante la funzione e molti fedeli hanno bevuto come documentato da un video diffuso in rete da un calice utilizzato in precedenza dallo stesso officiante. La chiusura della chiesa fino alla sua completa sanificazione è stata risposta dal sindaco di Lungro, Giuseppino Santoianni, a seguito di una comunicazione giunta dall'Asp di Cosenza.